Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Telegram. Oggi torniamo a parlare di politica, in particolare riguardo a un territorio limitrofo alla città di Firenze, una città a sé stante a tutti gli effetti. Parliamo di Scandic, lo abbiamo già fatto altre volte. Questa sera ospitiamo il sindaco Sandro Fallani. Buonasera e benvenuto. Buonasera, grazie. Sandro Fallani che però già da questi giorni, da questi mesi, poi in realtà uno non finisce mai, come dire, le campagne elettorali non finiscono mai, ma in questo momento in modo particolare, perché si sta chiudendo un ciclo, è quello ovviamente dei cinque anni di governo della città, e sta nascendo un nuovo ciclo, visto che Sandro Fallani è candidato proprio alle prossime elezioni del 26 di maggio. In questo senso, insomma, cercheremo di capire un po' anche come si sta svolgendo la campagna elettorale, meglio la scrittura del programma, perché poi questa è la fase, come dire, proprio primordiale, in cui nascono le nuove idee, i nuovi indirizzi. Quindi, prima però vorrei partire, se d'accordo, fallarne un po' da un bilancio, no? Perché poi quando si arriva in fondo a un ciclo è tempo anche di fare bilanci. Vorrei partire, non mi capita spesso di farlo, ma in questo caso vorrei partire dalle cose, dai trucci, diciamo così, da quello che in qualche modo avrebbe voluto fare e non è riuscito a realizzare, che magari si propone di fare nei prossimi cinque anni. C'è qualcosa, un punto particolare, insomma, qualcosa che... La cosa che mi piacerebbe portare agli scandicesi è il completamento delle infrastrutture. Quello che ci manca ancora definitivamente per essere compiutamente una città all'avanguardia. Primo è il casello svincolo, la viabilità d'accesso al casello autostradale. Siamo in una fase straordinaria della città, nella quale ci sono 917 assunti in più rispetto a cinque anni fa, 50 milioni in più di euro di redditi prodotti dentro la città, un tasso di soccupazione molto basso, insomma, diciamo che le cose stanno andando bene dal punto di vista socio-economico, ci manca un po' una competitività dal punto di vista di nodo stradale. Anche perché per altri mezzi di trasporto abbiamo fatto davvero tanto. Il primo parcheggio scambiatore riservato stradale, l'allungamento della tranvia, la linea 1, l'allungamento notturno, l'aumento delle frequenze, insomma, diciamo che la mobilità è nostro fino all'occhiello, però la mobilità tradizionale della sua ruota risente un po' di questo problema. E mi piacerebbe anche riconvertire anche il concetto di mobilità urbana. Stiamo lavorando tanto sull'abbattimento delle barriere architettoniche, sul rendere funzionale la strada per chi ha capacità residuali di deambulazione, chi è in carrozzina, insomma, eccetera. Mi piacerebbe poi anche le nostre assi di traffio via Roma e le 5 km via Pisana siano preferibilmente ciclopedonali, dove chi va in macchina chiede permesso per entrare, insomma. Quindi diciamo un bel lavoro da fare sulle strade e sugli accessi anche alla città. È stato visto che l'ha citato e magari poi, se me lo riprendiamo anche in avanti, però il discorso della tramvia, visto che c'è stata un'inaugurazione fondamentale, giustamente in Pompamagna, perché insomma a volte va detto che queste cose gli va dato una certa rilevanza, in modo particolare gliel'ha data la visita del Presidente della Repubblica a Mattarella. È stata anche l'occasione, insomma, anche per la Commissaria Europea è venuta di dire sì, noi sulle tramvie ci puntiamo, altri 40 milioni di euro se non sbaglio, anche per il proseguimento delle linee. Insomma, c'è anche progetti che riguardano anche la sua città, no? Ma poi in generale questa è proprio una rete che più si compone e meglio è. Noi facciamo il tifo, l'abbiamo sempre fatto, il tifo per il sistema tramviare fiorentino. Non siamo gelosi della nostra tramvia. Insieme agli altri sindaci della Piana, al sindaco di Firenze, al sindaco di Magna Ripoli, abbiamo stretto un accordo in Regione per l'ampliamento del sistema tramviare fiorentino. Perché per noi, con l'apertura della linea 2, ha significato salire a Scandici e scendere all'università. L'allungamento della linea 1, andare all'ospedale di Careggi, raggiungere il teatro di Rifredi e tutte le polarità che sono in quella zona lì. Quindi lo viviamo come un allungamento delle nostre possibilità, quindi di andare in qualche posto e di attrarre verso Scandici tante persone, investimenti e quant'altro. Quindi facciamo il tifo per l'allungamento a Bagna Ripoli, che è prossimo a essere finanziato. Per il cantiere della linea 4, quella che da Leopolda porta alle piagge. Anche perché noi abbiamo un interesse diretto, e il lavoro che stiamo facendo congiuntamente con il sindaco Nardella e il sindaco Fossi, è quello di allungare ulteriormente la tramvia verso Campi e arrivare a San Donnino, dove è in costruzione la passerella ciclopetonale che collegherà Badia VII alla stazione di San Donnino. Quindi una parte importante del territorio scandiccese della Piana e del segmento produttivo di Scandici avrà la possibilità di salire sulla linea 4 della tramvia. Noi siamo orgogliosi e stiamo spingendo per questo. È chiaro che il nostro obiettivo primario è quello dell'allungamento della linea 1 verso Casellina e verso il nuovo parcheggio scambiatore del nuovo casello, della nuova viabilità di Firenze e Scandici. E quindi quello è l'obiettivo. Su quello Tempi, insomma, ancora è presto, no? Allora, presto. Nell'accordo che abbiamo fatto, noi ci impegniamo a fare il progetto preliminare. Abbiamo disegnato sullo strumento urbanistico il tracciato, via Don Lorenzo Perossi, via De Spighi, via Le Due Giugno e la zona di Torre Rossa a Pontignale. Quindi sappiamo esattamente dove far passare la tramvia. Abbiamo l'accordo di fatto anche sul tracciato. Abbiamo finanziato lo studio di fattibilità. Dopodiché concorriamo alle risorse europee che il commissario Crezzo ha ribadito essere presenti nel bilancio pluriannale. Io penso che la prossima legislatura sarà il momento in cui arriviamo, io spero, a cantieri e alla realizzazione dell'allungamento della linea 1. Senta, invece, come dire, abbiamo parlato di ciò che magari è mancato, che insomma avrebbe voluto su qui, che vorrebbe portare gli scandicesi. Mi dice invece una cosa in positivo. Però mi piacerebbe indirizzarla io su un ragionamento. Quello, lo dico io, non lo faccio dire al sindaco, lo faccio dire a lei, però so che lei insomma tiene molto anche al, come dire, al tessuto sociale, alla connettività del tessuto sociale, no? A quanto poi insomma una società, una città, una comunità riesce a stare insieme. Anche dal punto di vista valoriale, dei diritti, insomma, sono temi che poi alla fine sembrano sempre troppo alte e passano sopra ai municipi e ai sindaci. In realtà non è così, perché anche dalle piccole azioni quotidiane in una città si determinano, non ho certe scelte. Come sta Scandicci da questo punto di vista? La parola che uso maggiormente, spesso non accorgendomene, poi ci ho fatto una riflessione anche semantica negli ultimi anni, è la parola comunità. Cioè la città è principalmente un incontro di persone diverse, la possibilità quindi di vivere insieme, che siamo anziani, giovani, lavoratori, pensionati, donne, uomini, provenienze, etnie, culture, religioni appartenenti differenti. Io credo che Scandicci sotto questo punto di vista sia un modello sociale senza pensare che non vi siano difficoltà. Abbiamo oltre 70 associazioni di volontariato che si occupano di sociale e che sono riunite in un organismo informale, il social party, e promuovano attività terze a loro. Abbiamo circa 400 bambini al nido, circa il 60% dei bambini nati vanno al nido, il 100% dei bambini alla scuola materna e 75 famiglie su 100 scelgono il tempo pieno. Quindi c'è alla scuola elementare che noi riusciamo a fornire. Quindi c'è un investimento di delega nella formazione dell'infanzia molto elevato a Scandicci. Ci si crede nel pubblico, ci si crede in una cura collettiva della partecipazione e dell'educazione pubblica della comunità. Ancora non ci siamo compiutamente accorti e stiamo riflettendo approfonditamente con le associazioni nella stesura del programma che le classi d'età della nostra città noi ci percepiamo ancora come una città giovane perché siamo nati negli anni 70 con le famiglie che venivano a lavorare e a vivere a Scandicci perché le case costavano meno e c'erano le fabbriche. Quindi sono arrivate un sacco di coppie giovani che hanno fatto tanti bambini. Ci percepiamo ancora così un po'. Mentre in realtà la classi d'età principale sono gli anziani. E quindi stiamo spingendo tanto affinché si aumentino i servizi agli anziani sul territorio, a cominciare dall'allargamento dell'RSA al primo centro di urno per anziani e mettere in rete quei centri di socializzazione dalle parrocchie ai circoli arci alle associazioni di volontariato per poterli sostenere e farli diventare diffusamente sul territorio dei luoghi di consapevolezza e di scambio tra le persone che hanno disponibilità di tempo. Quindi dobbiamo aumentare di più questa consapevolezza per aumentare i servizi agli anziani nel nostro territorio. Senta, gliele faccio io un paio di domande che poi sono anche i temi principalmente sul piatto. Un po' di tutte le città e in modo particolare le stanno i luoghi limitrofi anche alle grandi città come può essere Firenze magari non è grande dal punto di vista urbanistico ma lo è sicuramente dal punto di vista dell'afflusso delle persone e quindi anche dai problemi derivanti ad esempio dal tema della sicurezza uno dei temi fondamentali. Che cosa si può fare in questo senso? Perché le risposte tante volte al di là del fatto che servono poi gli agenti sul territorio e anche cose che non dipendono direttamente dall'amministrazione quello che invece può fare la regione toscana ad esempio sia impegnata nel fornire finanziamenti per ad esempio le telecamere per ad esempio strumenti in qualche modo per se non altro controllare il territorio. Come va a scandirci da questo punto di vista? Io vorrei uscire dal percepito perché se riuscissimo davvero ciascuno di noi singolarmente a rallentare sul problema della sicurezza e a pensare probabilmente avremo un approccio con la società e con i fatti più approfondito. Allora quando un ladro ci scippa o entra in casa e ci ruba gli oggetti più cari ci fa una violenza privata profonda, ci sciocca ci lascia arrabbiati, amareggiati, delusi, mortificati ed è difficilissimo avere la capacità di elaborare questo trauma e quindi insomma è veramente molto pesante è difficile convincere una persona che ha subito un furto in casa che i reati a scandicci sono in diminuzione fonte del Ministero dell'Interno quindi una fonte autorevole sotto questo punto di vista trasmesso dalle prefetture e quindi un vero problema emergente di sicurezza sui beni patrimoniali della persona non esiste sul nostro territorio. È chiaro che c'è una speculazione molto forte di chi in qualche modo ha qualcosa da guadagnare nel dire che le nostre città sono insicure e che si vive in un clima di tensione, di odio, di rabbia reciproa da guadagnare da un punto di vista mediatico da un punto di vista politico fino anche da un punto di vista economico ma il compito di un amministratore il compito di chi guida una comunità per l'appunto è cercare di non sottovalutare il problema sicurezza dicendo che tutto va bene ma neanche di drammatizzarlo perché così non lo è allora dobbiamo mettere in campo e lo stiamo facendo strumenti più a lungo termine invece che gli spot che ci fanno irrobustire da un punto di vista mediatico ma non servono poi nella realtà dei cittadini noi abbiamo messo le telecamere a tutti gli accessi cittadini senza farne uno slogan elettorale e questo da anni noi sappiamo attraverso il concorso di lavoro con i Carabinieri e la compagnia dei Carabinieri Scandicci ringrazio e la nostra Polizia Municipale chi entra e chi esce da Scandicci sempre continuazione 24 ore su 24 questo è il primo punto di certezza principalmente per contrastare anche i furti alle aziende che in un certo momento erano davvero una piaga molto forte abbiamo aumentato il numero di agenti di Polizia Municipale grazie anche alla possibilità di poterli assumere per una norma è stata sbloccata da noi per la Regione Toscana nel 2016 abbiamo assunto 5 agenti di Polizia Municipale ogni settimana facciamo il punto della situazione tra il nostro comandante della Polizia Municipale e il comandante della compagnia circa sospetti ad attività che facciamo di prevenzione e di controllo in linea generale diciamo insomma la situazione è abbastanza tranquilla facciamo un controllo diffuso serio sulla città io non sarei dell'opinione perché lì poi non c'è una verità di fondo una reale controllo di fondo cioè di legittimare forze esterne al controllo diffuso o a peggio alle ronde noi abbiamo direttamente cittadini che ci avvertono cioè il rapporto è costante con le istituzioni italiane con i carabinieri con la Polizia Municipale con il Sindaco in cui vengono denunciati comportamenti scorretti sospetti e quant'altro questa è una rete che ci sostiene Senta invece un'altra questione è quella che riguarda il tra virgolette mi passa il termine vivere in periferia perché il rischio diciamo dei territori che stanno appunto vicini a un grande capoluogo è quello dello svuotamento di funzioni che hanno a che fare con la vivibilità di un luogo anche ad esempio prendiamo un programma a declinarla rispetto ai giovani ad esempio cioè magari avendo Firenze vicino nascono meno locali nascono meno luoghi di aggregazione e quindi si rischia di far diventare i territori insomma i territori diventino città dormitori tra virgolette da questo punto di vista che mi dice? Noi non ci percepiamo come periferia di Firenze anzi c'è una crescita del sentimento identitario di Scandicci in integrazione con Firenze accresciuta in questi anni noi godiamo della vicinanza di Firenze per essere sistema integrativo cioè noi ci percepiamo come la realtà produttiva come l'elaborazione culturale urbanistica innovativa della città come attrattivi nei confronti di alcuni servizi commerciali la nostra filiera commerciale dentro il centro cittadino il nostro mercato settimanale del sabato attraiamo e lo vediamo dai dati della tranvia molte persone e molti ragazzi che vengono a studiare a Russell Newton piuttosto che al Sassetti Peruzzi e molte persone la domenica mattina e da Firenze circa il 60% dei nostri utenti vengono a vedere il libro della vita di assistere ai nostri concerti quindi noi viviamo sostanzialmente in armonia e in integrazione con la città che per noi non è assolutamente matrigna ma sorella maggiore è chiaro perché altri elementi quelli legati alla movida giovanile un pochino facciamo di siamo un po' in sofferenza però stiamo elaborando alcune e do un'anticipazione insomma alcune strategie ovviamente pubbliche poi ci deve essere anche il concorso del privato ovviamente c'ha voglia di investirci fra le quali la ristrutturazione completa del teatro del Mila Perali Teatro Studio che diventerà un polo della produzione musicale giovanile dell'area fiorentina l'apertura dominicale della biblioteca di Scandicci quindi il luogo principale dello studio dell'incontro delle giovani generazioni non solo di Scandicci quindi questi grandi progetti di apertura temporale e di produzione della cultura che possono essere su cui si possono sviluppare attorno insomma un modo di vivere diverso la città anche nei momenti in cui la movita notturna può portare via ragazzi da Scandicci e poi insomma in qualche modo è quello che poi può fare il pubblico poi ovviamente c'è bisogno che i privati investino in qualche modo e aprano il locale quello è un invito che si può fare ma ovviamente ognuno farà le sue scelte senta dopo riprendiamo il ragionamento mi piace capire come sta andando insomma il tour che sta facendo per la scrittura del programma però in un minuto e mezzo c'è una parentesi che secondo me è interessante per Scandicci che voi avete coltivato e rafforzato ogni anno di più anzi quasi ogni mese in più il vostro rapporto con la Sicilia e con un pezzo specifico della Sicilia è una delle belle storie di questi anni nel 2012 Libera fece la festa nazionale a Firenze e noi ospitammo il raduno dei ragazzi di Libera al palazzetto dello sport al campo Turri di lì è nato un rapporto direttamente con il fondatore di Libera Don Luigi Ciotti che ci chiese di non commuoverci rispetto ai problemi del sud ai problemi del lavoro ai problemi della occupazione mafiosa delle menti delle persone ma di muoverci allora l'anno successivo nella nostra indole di persone sobrie e lavoratrici adottammo una cooperativa nata sui terreni confiscati alla mafia la cooperativa Beppe Montana neonata a Lentini in provincia di Siracusa e le aiutammo prima regalandogli i 5 mila euro e tutte le associazioni di volontariato recuperarono fra di loro e anche le motoseghe per pulire i 5 ettari di frutteto di aranceto che avevano ereditato erano fermi da 15 anni e di lì hanno cominciato a lavorare questi ragazzi qui siamo legatissimi e il primo carico di arancero comprammo noi con le nostre scuole e con le nostre associazioni lì è nato un rapporto fortissimo si è sviluppato dal fine settimana della legalità è diventato un mese della legalità nell'ambito della mezza maratona ci sarà domenica faremo la passeggiata della legalità con le magliette della legalità che vanno a sostenere sia le scuole che l'operativa Beppe Montana sabato al villaggio della legalità sarà possibile acquistare le arance di cui l'agio va sempre a favore delle scuole mentre il costo effettivo ovviamente a ripagare gli agricoltori e da quest'anno sono molto orgoglioso il progetto non è più solo del comune di Scandicci ma si è affrancato con noi anche il comune Bagna Rifoli perché d'altra parte queste cose più siamo e meglio l'unione fa la forza assolutamente allora ci fermiamo per 5 minuti riprendiamo tra pochissimo parleremo della scrittura del programma come sta andando quali sono le prospettive insomma tanti altri argomenti riguardano la sicilità di Scandicci ma insomma non solo un'area importante del centro della nostra regione giusto 5 minuti poi torniamo in studio restate con noi bentornati in studio allora stiamo parlando di Scandicci proiettata al futuro anzi verso il domani così abbiamo titolato perché il domani in questo caso è diciamo il 26 maggio data delle elezioni amministrative che riguarderanno anche proprio Scandicci tra l'altro insomma il sindaco Sandro Fallani sindaco uscente che si ricandida alla guida della città che abbiamo qui in studio in questi giorni in questi mesi e da qui fino alla data delle elezioni si muoverà e si è mosso in maniera anche piuttosto ingente insomma macina chilometri diciamo così con delle belle iniziative insomma che sono un tour in qualche modo per la scrittura del programma questo diciamo non è per andare a presentare che cosa farete ma è per andare proprio a raccogliere soprattutto i suggerimenti e le iniziative che cosa le chiedono in modo particolare c'è qualcosa c'è un fil rouge diciamo che in tutti i posti va e ritrova chi pensa e sia almeno la mia percezione non pretendo di avere verità sono usa in tasca però chi pensa di fare il fenomeno cioè che sia il momento in cui bisogna esasperare i concetti portarli alle estreme conseguenze alla rottura allo slogan forzato all'edulcorazione della persona ci penso io senza di me il mondo muore chi ha bisogno di condottieri e capitani senza macchia e senza paura credo che in questo momento faccia un errore di fuoco di messa a fuoco nella società la percezione degli anni precedenti quando non abbiamo mai smesso di andare tra la gente abbiamo fatto più di 150 incontri di territorio incontri territoriali incontri di settore anche piccoli perché a volte questo vincolo dimensionale è molto importante nella relazione vis-a-vis quello che ci era percepito negli anni si sta manifestando quando esplicitamente dal 21 gennaio scorso abbiamo inaugurato un percorso di costruzione e di scrittura collettiva del programma viene fuori noi a oggi e questo è un dato molto sorprendente io sono veramente felice ieri a Vingone era l'ottavo incontro di programma e firmate cioè le persone firmano la loro presenza un po' come si fa a scuola firma l'entrata e l'uscita siamo oltre 420 persone quindi 53 persone di media ad incontro quindi è un dato incredibile ne abbiamo di qui al 27 di marzo quando presenteremo il programma al Teatro Aurora alle 21 altri 18 incontri fissati e siamo dovuti andare oltre il 27 di marzo per un totale di 40 perché non ci serve proprio lo spazio fisico di poter ospitare tutte le richieste è possibile farlo attraverso una mail o un numero di telefono ovviamente quindi siamo stati schiacciati da questo numero di richieste ecco per arrivare al concetto fondamentale si chiede serietà si chiede approfondimento si chiede compostezza si chiede relazione vera si chiede di far capire l'immaginario collettivo è chiaro e c'è anche la signora che viene o il signore e dice ma insomma è 5 anni non avete fatto la buca a fronte a casa ho il marciapiede rotto ho lì il lampione scassato avevate detto si faceva ad aprile o l'avete fatto a maggio e quindi questo sottofondo non è che è scomparso esiste ma in realtà la parte principale della relazione con le persone sia nei territori che sugli argomenti è di capire dove stiamo andando e fidarsi di un percorso che certamente non sarà un percorso il migliore possibile ma è un percorso serio e guidato è un percorso fatto di persone di contenuti di idee di limiti perché non siamo dei fenomeni nessuno di noi di far capire che ci sono i problemi e che vanno condivisi è un percorso di credibilità individuale e questo è quello che emerge è un grande forza io ho guardato a casa la sera davvero mi ricordo lunedì scorso siamo andati alla parrocchia di San Colombano c'è stato e c'erano una cinquantina di persone nell'incontro fatto nei locali della parrocchia siamo andati sono andati sono andati in molto profondità sul senso anche dell'impegno civile che ciascun cittadino deve mettere in pratica certamente il sindaco lo fa protempore e lo fa però da mezzanotte a mezzanotte però ci deve essere anche l'attitudine del padre di famiglia della madre di famiglia anche di avere una visione pubblica anche nei comportamenti privati quindi insomma è la cittadinanza attiva quella che viene a partecipare a questo tipo di incontri per quanto riguarda volevo farle una domanda anche su questo come dire la dimensione di Scandice torno sempre lì però lei è anche in città metropolitana io le chiedo se quell'esperienza la rivendica come un'esperienza positiva per quanto riguarda l'area metropolitana perché oggi immaginare comunque confini stretti ne abbiamo già parlato l'identità è importante va rivendicata però poi certe partite le si giocano anche su tavoli un po' più ampi brevemente io cerco di essere stretto su questo io sono un cultore della grande Firenze non perché Firenze debba essere debba fagocitare tutto quello che sta intorno perché alcuni elementi della vita collettiva possono essere meglio gestiti tipo il trasporto le infrastrutture uno di questi che ci vede in mente in modo più grande se si sta insieme e quindi i fenomeni di lavoro di socialità di cultura di trasporto eccetera di servizi sociosanitari hanno senso in una dinamica un po' più grande e quindi vivo la città metropolitana con un'esperienza positiva grazie alla città metropolitana il comune di Scandicci ha ricevuto tanti finanziamenti la variante di San Vincenzo ad esempio la partecipazione al bando delle periferie che ha portato oltre 12 milioni di euro sul territorio la scuola la scuola Pettini e quant'altro c'è bisogno però di una rappresentanza anche politica locale non necessariamente il sindaco introspettiva ma anche non lo so un presidente di una municipalità eletto direttamente che per statuto partecipa alla giunta della città metropolitana questo può essere un percorso che chiaramente fatto dal basso diventa difficile perché quale sindaco e quale comune avete visto i processi di fusione che difficoltà hanno nell'immaginario collettivo c'è sempre il dubbio di perdere qualcosa ma se il Parlamento in maniera più serena in maniera più approfondita capisse è venuto anche il tempo di riformare le istituzioni locali questo potrebbe essere un'idea da poter portare all'attenzione nazionale senta provo ad andare veloce perché mi sono venuto in mente un paio di domande da farle ecco tutto così work in progress la prima riguarda il suo programma cioè vorrei capire se lei ha come dire dei fascicoli proprio principali proprio pratici delle cose pratiche abbiamo parlato di quello delle infrastrutture non ci torniamo sopra dell'assetto viario diciamo dell'ingresso alla città ce ne sono altre due o tre punti a spot dice questo se fosse sarò io sarà uno dei primi fascicoli che voglio avere continuiamo un percorso di governo che abbiamo iniziato l'obiettivo che ci poniamo è quello di portare a termine un percorso di una legislatura che per noi nell'immaginario è di dieci anni la cosa importante è uno degli elementi qualificanti è il parco dentro l'ex CNR farlo diventare il parco urbano più importante dell'area metropolitana fiorentina il rifacimento noi l'abbiamo finanziato già in parte quest'anno con l'idea di finanziarlo anche l'anno prossimo e fra due anni è quello di rifare tutti i giardini scolastici abbiamo rifatto tutti i giardini pubblici di Scandicci sostituendo tutti i giochi e rifacendo anche il piano stiamo cominciando dalla scuola turziana a rifare tutti i giardini scolastici questi sono tutti i dati che sono già in progress rispetto all'idea di rifare la scuola la scuola fermi c'è un nuovo modello educativo abbiamo oggi io ho terminato un incontro per cui abbiamo il finanziamento anche su queste donate prima per rifare la scuola nuova a San Vincenzo a Torri la nuova la nuova Torri quindi il completamento di attività di edilizia scolastica infrastrutturali legata a servizi alla persona per esempio una novità di quest'anno che già finanziamo col bilancio e che vogliamo cercare di colmare il tempo che esiste tra la fine della scuola soprattutto la primaria la materna e la primaria e l'inizio dell'anno scolastico successivo quelle 13 settimane 91 giorni in cui i ragazzi non hanno nessuno a casa sono obbligati ad andare a centri estivi hanno un costo familiare molto alto per la prima volta credo siamo i primi in Italia a fare una cosa del genere daremo un contributo alle famiglie per mandare i ragazzi a centri estivi quindi sosterremo anche questo costo educativo dei ragazzi cioè quindi riorganizzare la vita delle persone e delle famiglie attorno ai bisogni reali questo aumentandone quindi la qualità media siccome siamo quasi in chiusura devo farlo anche se poi sono delle cose meno interessanti ma insomma dei principi più importanti credo li abbiamo un po' sviscerati però c'è anche un assetto politico che ruota ovviamente intorno alle elezioni mi dice come è stato da questo punto di vista insomma il Partito Democratico dentro o fuori c'è anche un congresso sullo sfondo nazionale non attrae moltissimo insomma questo va detto in qualche modo però i sindaci ovviamente si rifanno anche a dei principi dei cardini dei valori che stanno anche nell'albero dei partiti sempre meno ma è ancora così come va da questo punto di vista è una questione di aggregazione insomma anche per il centro-sinistra per lei allora il Partito Democratico il Partito Democratico a Scandicci è un bel gruppo è una bella comunità di persone e io di questo li ringrazio perché anche nei momenti più esaltanti non si sono mai troppo esaltati e nei momenti più difficili non si sono mai troppo depressi cioè esiste un fil rouge di persone serie di oltre 550 iscritti che fanno la festa che sono dietro ai problemi amministrativi delle persone a Scandicci dietro all'amministrazione che il sabato fanno il gazebo cioè di persone serie c'è un gruppo di persone serie che lavora e ha un'idea di sviluppo e di progresso della propria comunità e dibattite e dibatte anche apertamente anche approfonditamente quando ci sono le grandi questioni nazionali quando ci sono congressi eccetera ma poi riesce a trovare sempre la sintesi io di questo ne sono contento penso anche io non sono appassionato del dibattito nazionale faccio tanta fatica oltre il livello mio locale anche a capirci qualcosa a volte ne sento anche un limite anche culturale e politico personale ho sempre declinato le non numerose offerte di far parte di organismi partitici a livello più alto a livello regionale ho sempre detto di no perché non mi sento all'altezza anche di fare una cosa di questo tipo l'altro elemento e quindi però io penso se posso avere un pensiero nazionale è che il partito democratico credo non basti più a chi vuole vedere nell'Italia del 2030 uno strumento di progresso e di emancipazione sociale credo che possa essere il partito democratico il socio di maggioranza di un'aggregazione più ampia di donne di uomini e di persone che vogliono rinnamorarsi del futuro dell'Italia e avere fede a cuore l'Italia di persone competenti serie e laboriose sul livello locale noi continuiamo a fare ciò che abbiamo inaugurato cinque anni fa quando sembrava un po' non ortodosso appoggiarsi alle liste civiche eccetera il nostro civismo è connaturato in noi io ho persone che hanno un'esperienza politica e nasce con le primarie con me che sono un consiglio comunale che ci hanno sempre seguito e sono giunta e che vogliono continuare a recitare il ruolo anche di autonomia intellettuale e culturale nei confronti dei partiti tradizionali c'è un elemento di novità molto forte che cerchiamo di stringere e so che ieri si sono riuniti e è venuto fuori un'espressione positiva anche chi non si riconosce più nella tradizione della sinistra storica ha voglia di partecipare al governo della città soprattutto sente minacciato alcuni principi di diritto fondamentale il rispetto delle persone delle differenze di genere delle differenze culturali etniche eccetera che ha avuto una reazione molto forte a Scandici a un certo punto e lo sento emergere con grande energia negli incontri anche che faccio in città che non si riconosce più della bruttezza di chi fonda la propria attività pubblica il proprio consenso personale offendendo gli altri dicendo gli altri sono peggiori perché sono migranti perché sono neri perché sono po' istruiti perché sono di sinistra perché sono che ne so antifascisti quindi ecco c'è un mondo che sta reagendo ma in mondo quello vero c'è il mondo che fa servizio nell'associazione di volontariato che fa servizio nelle associazioni sportive e che ha voglia di organizzarsi e di reagire di fronte a una colorazione del mondo una colorazione nera una colorazione brutta una colorazione di conflitto e questo noi l'abbiamo insomma accolta questa idea vuol diventare anche politica vuol diventare anche elemento di testimonianza politica dentro le istituzioni infatti lo sto chiedendo a tante persone c'è un motto di San Giovanni Bosco che dice bravi cristiani onesti cittadini non basta più essere degli onesti cittadini bisogna anche popolare le istituzioni nei loro gangli vitali di persone che hanno valori profondi e non lasciare spesso a chi non ha alcuna speranza alcuna idea di futuro di popolare consigli comunali consigli regionali e di fare dell'offesa della superficialità l'unico meccanismo pseudo democratico di rappresentanza grazie mille Sandro Fallani grazie a voi grazie a tutti per averci seguito da casa Telegram termina qui ci vediamo domani buona serata a tutti grazie a tutti